Nel 2018 avevamo approvato il piano strategico della Fondazione Bruno Crest per i prossimi 10 anni. L'anno scorso ci siamo occupati dei giovani e dell'intelligenza artificiale, per il 2020 noi ci occuperemo dell'intelligenza artificiale per la salute e per la sanità. Questo è un tema su cui stiamo lavorando da molti anni, quindi abbiamo molto fieno in cascina. Naturalmente nell'anno questa focalizzazione ci aiuterà e aiuterà il nostro territorio ad integrare l'intelligenza artificiale nel sistema della sanità. Come molti di voi certamente sanno, oggi il fascicolo elettronico del sanitario è utilizzato da circa 100.000 cittadini. Noi siamo certi che con gli strumenti che verranno messi a disposizione con l'intelligenza artificiale questo numero potrà incrementare in modo rilevante. Un'altra delle attività che saranno prioritarie per FBK nel 2020 è l'analisi dei dati che saranno o che sono generate dall'internet delle cose. Questo significa che i 50 miliardi di sensori che saranno nel nostro modo di vivere, quindi nelle nostre case, nelle nostre strade, nelle nostre fabbriche, nelle nostre scuole, già nel 2020 genereranno una quantità di dati enorme e FBK è particolarmente impegnata perché questi dati possano essere utilizzati al fine di migliorare la qualità della vita dei propri cittadini.